Notizie di Calcio Mercato Inter che si intrecciano con le questioni di campo, i rinvii, gli infortuni in queste ore, ore che possono essere decisive per la stagione dell'Inter, potremmo dire così. Perché? Perché siamo in attesa delle decisioni del giudice sportivo su Bologna Inter per capire se si rigiocherà ed eventualmente quando. Siamo in attesa di capire, di avere ulteriori aggiornamenti anche su Inter-Venezia, si dovrebbe giocare ma visti tanti casi di positività tra i giocatori ospiti prestiamo attenzione a questa situazione e aspettiamo anche comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Joaquin Correa che in qualche modo appunto questo infortunio di Correa in qualche modo cambierà le strategie di mercato dell'Inter nell'immediato e non solo. Quindi, viste le tante notizie in arrivo, io vi consiglio innanzitutto di iscrivervi al nostro canale e di attivare anche la notifica così se non lo avete ancora fatto restate sempre aggiornati con le nostre notizie e non vi perdete neanche le nostre dirette ogni giorno alle 19.30, mi raccomando. Detto questo, facciamo alcune riflessioni insieme, vorrei coinvolgervi in questi ragionamenti. Partiamo dal discorso calendario, dicevamo al momento non sappiamo ancora se e quando si rigiocherà Bologna Inter ed è in bilico anche Inter-Venezia però come vi dicevo probabilmente si giocherà ed è importante perché un altro rinvio, rinviare anche Inter-Venezia sarebbe veramente molto molto pesante. Vi faccio vedere sul nostro sito passioneinter.com abbiamo fatto un piccolo focus sul calendario dell'Inter del mese di febbraio, subito dopo la sosta di queste nazionali al termine del mese di gennaio si tornerà in campo con un febbraio veramente veramente molto tosto e che probabilmente indirizzerà la nostra stagione perché il 6 febbraio c'è subito il derby Inter-Milan. Quindi si prosegue con la gara del 9 febbraio Inter-Roma, i quarti di finale di Coppa Italia con la Roma che ha battuto il Lecce proprio nelle scorse ore. Napoli-Inter a seguire il 13 febbraio, trasferta molto importante in ottica Scudetto e quindi Inter-Liverpool il 16 febbraio, infine Inter-Sassuolo e Genoa-Inter. Questo è l'attuale calendario di febbraio, aggiungiamoci che il recupero di Bologna probabilmente nel caso in cui appunto si dovesse rigiocare verrà inserito proprio in quello spazio tra il 20 e il 27 febbraio, capite bene quindi che sarà un mese veramente tosto e che può essere veramente decisivo per la stagione dell'Inter. In questo senso per questo dicevo attenzione alle dinamiche di mercato perché come ho sempre detto non rinnego quello che ho detto ad inizio stagione, cioè non cambio idea, parere su questa rosa dell'Inter, una rosa che secondo me rimane forte e anche abbastanza completa anche a livello di alternative ai titolari. Però rispetto ad inizio stagione è vero che hai recuperato di fatto un Alexis Sanchez che probabilmente è il miglior Sanchez che abbiamo mai visto da quando è all'Inter e quindi questo è sicuramente un giocatore in più e di grande spessore. Però hai tolto Satriano per quanto fin qui non abbia mai avuto spazio è comunque un giocatore in meno sul quale puoi fare affidamento. C'è la questione Sensi di cui andiamo a parlare tra pochissimo, c'è un Correa che purtroppo fin qui non sta dando garanzie fisiche e sarà fuori come detto e tra poco vediamo anche qui ulteriori dettagli sulla sua assenza. E poi aggiungiamoci anche altre considerazioni, aggiungiamoci per esempio che l'Inter si presenta già al prossimo turno di campionato con tre giocatori importanti diffidati, Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal. Quindi in caso di ammunizione salterebbero il derby al rientro dalla sosta. In ogni caso siamo in una fase molto importante in cui questi giocatori scenderanno in campo con la spada di Damocle della possibile squalifica e quindi si rischia comunque di affrontare nel Tour de Force di febbraio una gara molto importante senza un altro big. In più siamo anche in attesa ormai nei prossimi giorni della decisione sulla squalifica di Barella in Champions quindi salterà di sicuro almeno l'andata con Liverpool. Quindi sai che con ogni probabilità a febbraio non tutti insieme chiaramente ci auguriamo ma ti verranno a mancare prima o poi un altro prima uno e poi un altro magari tra Brozovic, Lautaro e Barella. In più Correa dicevamo le prime notizie non fanno temere uno stop lunghissimo. Le lacrime di Correa, l'avevamo detto subito in diretta, sembravano più per il dispiacere dell'infortunio piuttosto che per l'infortunio in sé. Quindi c'è chi parla comunque in ogni caso di uno stop di almeno una ventina di giorni, vorrebbe dire saltare il derby, saltare l'Inter-Roma nella migliore delle ipotesi, mettere nel mirino Napoli-Inter oppure Inter-Liverpool. Quindi è anche un Correa in meno in una fase molto molto importante e per questo motivo a me la profondità della Rosa per questo mese di febbraio, per questo momento importantissimo della stagione, inizia un pochettino a preoccupare e lo dico sinceramente. A maggior ragione se dovesse partire anche Stefano Sensi. Sensi era appunto praticamente pronto per partire per Genova a Sponda-Samp, ora il giocatore si era convinto ad andare, quindi andrà capito bene anche lì quali saranno poi gli sviluppi su di lui, perché all'Inter chiaramente non potrà essere un titolarissimo come invece sarebbe stato alla Samp. L'Inter a quanto pare ha messo in stand-by la partenza fino almeno a lunedì ed è probabile a questo punto che rimanga anche oltre questa sessione di mercato e quindi che concluda la stagione con l'Inter, però il discorso anche qui da fare non è che l'Inter conferma Sensi per il gol segnato per quanto importante, per quanto bello contro l'Empoli in Coppa Italia. Lo fa più che altro per l'infortunio di Correa che va a ridurre ulteriormente la rosa disposizione di Inzaghi. I ruoli sono ovviamente diversi tra Correa e Sensi, però va anche detto che Sensi pur non facendo benissimo contro il Genova alla prima di campionato ha già fatto quel ruolo di rifinitore alle spalle degli attaccanti, quindi può diventare anche un'alternativa agli attaccanti in situazioni di emergenza per esempio. Io comunque su Sensi continuo sempre a tenere aperta l'ipotesi che poi la prossima settimana durante la sosta, durante l'ultima settimana di mercato possa poi volare e trasferirsi a Genova alla Samp, però diciamo che comincio a pensare anche dall'altra parte che le chance di permanenza siano in costante aumento col passare delle ore, perché? Perché da quello che ci risulta l'Inter ha fatto un tentativo anche concreto di arrivare a Frattesi del Sassuolo, centrocampista che viene visto come vice Barella, comunque centrocampista che l'Inter vuole assolutamente prendere e ci risulta un tentativo concreto per averlo a gennaio che però non è andato a buon fine. Il Sassuolo ha fatto muro, preferisce tenerlo fino al termine della stagione almeno e quindi scontrandosi col Sassuolo l'Inter ha provato comunque a portare avanti i discorsi, rinviandoli poi alla prossima estate, ma unendo lo stop su Frattesi, l'infortunio di Correa, queste due cose secondo me fanno appunto aumentare le chance di permanenza di Sensi. Tenendo sempre d'occhio tra l'altro Vesino, tra l'altro che potrebbe svincolarsi a parametro zero, la sua scelta potrebbe essere quella di andare a parametro zero al termine della stagione per poi avere una scelta più ampia di club dove accasarsi, ma in queste ore da Roma continuano a segnalare una Lazio fortemente interessata, per cui prestiamo attenzione a queste ipotesi che aprirebbe ad ulteriori scenari e aprirebbe secondo me ulteriormente alla necessità di mettere qualcosina di nuovo in mezzo al campo. Detto questo però oggi la gazzetta dello sport soprattutto, ma non solo la gazzetta, torna a spingere sulla possibilità che arrivi subito un esterno sinistro. Ci sono, si parla adesso sicuramente usciranno voci di Mister X, cioè non si può escludere che Marotta come ha sempre fatto possa avere dei nomi non ancora usciti, nomi a sorpresa che potrebbero improvvisamente diventare caldi e approdare all'Inter. Però in questo momento sembra proprio che Kolarov possa uscire, potrebbe già annunciare l'addio nei prossimi giorni e magari entrare a far parte dello staff di Inzaghi e questo aprirebbe gli scenari, le porte ad un nuovo arrivo sull'esterno di sinistra con Di Marco che potrebbe andare ad alternarsi a bastoni in difesa. Su Passione Inter già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come l'Inter tramite intermediari ed agenti stesse lavorando in maniera importante sul mercato tedesco, era uno dei mercati che l'Inter stava valutando molto molto attentamente e i nomi caldi infatti per la corsia sinistra in queste ore sembrerebbero quello di Benzebaini e quello di Filip Kostic. Su Benzebaini abbiamo fatto qualche ricerca, personalmente mi sembra difficile come ipotesi nell'immediato, vi do più che altro la mia opinione perché da un lato ci sono dei costi dell'affare che probabilmente non sono molto contenuti, ma soprattutto mi viene da pensare il Borussia Mönchengladbach che sta cercando di vendere Zaccaria, sta cercando di vendere Ginter, entrambi scanezze di contratto a fine stagione, vorrebbero monetizzarli subito, sarei molto sorpreso nel vedere il Borussia vendere tre giocatori così importanti in una stessa finestra di mercato. Quindi a sensazione mi spingo sempre di più sull'idea che l'Inter possa cercare di anticipare il colpo Kostic che va tenuto quindi attentamente sott'occhio, ne parla appunto come vi dicevo la gazzetta ma non solo. Per quali motivi soprattutto? Ne abbiamo parlato spesso, è un obiettivo di lunga data ormai dell'Inter che lo conosce bene, lo vuole da tanto tempo, è in scadenza nel 2023, vuole partire dall'Eintracht francoforte, l'agente è un agente molto molto vicino all'Inter, tra l'altro tra poco vi diciamo anche un'altra cosa sulla gente, ecco Kostic può essere una soluzione molto intelligente per avere un giocatore dall'impatto immediato e poi eventualmente sostituire anche Perisic a fine stagione, cioè andresti ad anticipare oggi un'operazione che poi dovresti fare in estate. Tra l'altro Kostic è extracomunitario quindi ti giochi uno slot subito per gli extracomunitari e te lo lasci per la prossima estate quando tra l'altro hai già preso Onana e quindi è una pista da tenere sicuramente d'occhio. Vi dicevo dell'agente di Kostic, l'agenzia che lo segue è un'agenzia con tanti grandi calciatori tra cui anche Quadrado che in queste ore è al centro di diverse notizie, diversi giornalisti, Monblano, tutto mercato web e altri portali ne stanno parlando, stanno parlando di un contatto tra l'Inter e Quadrado tramite il suo agente, Quadrado è un altro giocatore in scadenza di contratto con la Juventus, personalmente io con tutto il rispetto ma Quadrado 34 anni da compiere tra poche settimane se non sbaglio, per quanto fisicamente integro, per quanto forte non è propriamente un giocatore di mio gradimento, ecco, per i motivi che tutti noi sappiamo. Quindi da un lato questa notizia che sta circolando secondo me conferma i rapporti solidi tra l'Inter e la gente, dall'altro continuo a sperare personalmente che questa possa essere un'ulteriore mossa che rientra in quello scenario più ampio che vi stiamo dipingendo da diverse settimane, ovvero di questa lotta di potere in corso tra l'Inter e Juventus che di fatto va a tutto campo. Perché? Perché l'Inter anche in quest'ora si sta parlando molto di un tentativo serio per Scamacca per la prossima stagione, si pare che si possano inserire nell'affare giocatori come Pirola o Pinamonti. Nel frattempo l'Inter comincia continuo, anzi a lanciare schermaglie su Dybala, si parla di Quadrado. Sotto sotto però io continuo a pensare e sperare anche che il duello in atto sia soprattutto attorno a Vlaovic. Tutte queste schermaglie quindi possano avere come base, come sottofondo in realtà un tentativo concreto da parte di Inter e Juve per arrivare a Vlaovic. Spero ovviamente più da parte dell'Inter. Io quindi questa sensazione continuo a tenerla aperta, ve lo dico. È molto difficile ma la teniamo aperta. Tra l'altro vari quotidiani oggi dicono che la Juventus avrebbe fatto un'offerta importante per avere Vlaovic fin da subito. Un giornalista del New York Times nei giorni scorsi ha detto che la Fiorentina starebbe valutando l'ipotesi di vendere subito Vlaovic per monetizzare e non aspettare la prossima estate. Ci sono quindi le concorrenti estere sono sicuramente molto molto difficili. Competere con grandi club dall'estero si sta parlando molto dell'Arsenal ma non solo. Io però continuo a pensare che Inter e Juve stiano battagliando per lui. Tra l'altro l'etroscena della Gazzetta lo stesso agente di Kostic, di Quadrado e di tanti altri giocatori segue anche Kulusevski e avrebbe incontrato la Fiorentina scrive appunto oggi il quotidiano. Si parla quindi di un'offerta della Juve che avrebbe messo sul piatto soldi e Kulusevski però chissà questo agente ha lavorato anche a tante altre maxi operazioni con altri club quindi vediamo. Alla luce di queste considerazioni e di queste notizie andiamo in chiusura con un mio rapido parere. L'ho detto più volte in questi giorni, l'ho scritto anche nell'ultima newsletter di Passione Inter. Sappiamo benissimo che il momento economico non è semplice, sappiamo benissimo che bisogna prestare attenzione ai conti. Io sono assolutamente d'accordo con chi dice che bisogna perseguire la sostenibilità del club. Sappiamo anche che l'incertezza legata alla pandemia va tenuta in conto in questo momento anche nelle varie previsioni sui bilanci. Però da tifoso, oltre che da giornalista, dico anche nella situazione in cui si trova l'Inter oggi, non fare un piccolo sforzo sul mercato di gennaio che non deve essere un comprare tanto per comprare. Non mi aspetto che si vada a comprare il primo giocatore libero che capita giusto per allungare la rosa. Però qualche piccolo correttivo strategico in alcune zone di campo, ecco, non farlo sarebbe veramente un peccato. Perché magari tentare anche di anticipare qualche colpo che si ha in mente per l'estate e farlo subito sarebbe veramente un peccato. Perché magari non vai a fare quell'acquisto da 4-5 milioni nell'immediato, butto lì una cifra a caso, però non lo fai, ti trovi in una situazione d'emergenza e magari perdi qualche punto in campionato, che può essere molto importante vista il grande equilibrio che c'è in questa stagione. Magari perdi o esci dalla Coppa Italia oppure anche peggio, che ne so, può risultarti decisivo in Champions dove lì i soldi sono tanti. E ecco, non fare quell'investimento magari può portarti ad un danno economico che sarebbe anche peggiore. Quindi sono giorni molto molto importanti. Siamo in ottime mani, ovviamente, massima fiducia nel nostro management che sa sicuramente meglio di me che cosa bisogna fare. Però io ho qualche piccola preoccupazione sulla profondità di questa rosa, ce l'ho. E non fare nulla in questo mercato per me si ha la possibilità, con qualche piccolo correttivo, prestando bene attenzione anche agli equilibri e tutto quanto, di mettere a disposizione, di simbolizzargli una rosa molto forte con la quale raggiungere grandi traguardi all'interno di questa stagione. Quindi questa è la mia speranza. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se anche secondo voi questa squadra ha bisogno di rinforzi oppure se si può rimanere così. Comunque fin qui abbiamo fatto molto molto bene, nonostante anche qualche assenza nella prima parte di campionato. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji. Questa volta facciamo l'emoji del fuoco, visto che sono ore calde, come dicevamo all'inizio di questo contenuto e di questo episodio. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sostenere il nostro progetto qui sotto tramite gli abbonamenti e tramite gli abbonamenti avete accesso a dei contenuti esclusivi che abbiamo pubblicato in anteprima per voi sul nostro canale. Quindi mi raccomando andate a recuperarvi subito, che abbiamo raccontato del player trading con un esperto che cos'è, come funziona e gli scenari per il futuro dell'Inter. Secondo me c'è qualcosa di interessante che tra l'altro si riallaccia anche a questo discorso che abbiamo fatto oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ci rivediamo in diretta come ogni giorno alle 19.30.